Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e dopo tantissimo tempo stiamo di ritorno con un video vlog e niente, volevo documentare con voi questa giornata perché siamo in viaggio, abbiamo appena ritirato il furgone... abbiamo appena ritirato il furgone SX, abbiamo noleggiato un... come si chiama la marca? Un Doblò. Abbiamo appena noleggiato un Doblò per fare il nostro trasferimento perché bene sì, ci trasferiamo, lasciamo Parigi, andremo a vivere a Lione e oggi facciamo il primo viaggio, andiamo a recuperare le chiavi del nuovo appartamento e ne approfittiamo e portiamo giù un po' di cose. Comunque niente, appena arriviamo a casa vi faccio vedere il furgone e tutte le cose come abbiamo preparato e andiamo a passare insieme questi due giorni di trasloco. Ok, poi ci va di ritorno a casa, sono chiaramente dimenticata di fare video ma stiamo già iniziando a portare tutto la roba, avevamo preparato quali cose principali da portare via e basta, facciamo un po' di... andate e ritorno e vi faccio vedere dopo il camion com'è. Ok, quindi questo qua invece è il furgoncino che abbiamo preso. Lì, non c'è caso. E voilà, adesso andiamo riempiendo qua piano piano, abbiamo messo il tappeto sotto, i vari sacchetti e continuiamo a riempire. e giù c'è qualcuno. è finito tutto, siamo pronti, prendiamo la luce. Hai le chiavi di casa? Sì. Ok, ciao a casa. Chiudi tu? E andiamo, c'è rumba, pronta con questo cacinetto. Le traversine? Guardiamo. 5 ore di macchina, più o meno 5 ore, ora vediamo appena saliamo sul navigatore quanto è il tempo per andare fino a Lione. e basta. Ciao, ciao, ciao. Boh, ciao, fino a domani. Domani siamo di nuovo qua, però. Vi faccio vedere come abbiamo caricato il furgone dietro, quanta roba c'è. Ok, tutto il furgone. Chiuso. Ok. Sono stato del furgone, tutto bello pieno. Non si vede ma dietro c'è tutta la roba. Yes. Pausa merenda prima di partire. Io non ce l'avevo finora in casa. Ok, ci siamo. Siamo pronti in macchina. Rumba qua. E si parte 4 ore e 42 di settimana. No, l'abbiamo. No. No, no, no. Sono più o meno due orette che siamo in viaggio, ci mancano 300 km per arrivare a Lione Quindi neanche a metà ancora, è un po' lunga però vabbè, si sono già fermati a fare Pausa pranzo con i panini e stiamo continuando a viaggiare Quindi ogni tanto vi metterò quando vedo qualcosa di carino qualche pezzettino di video Siamo in rumba Ok eccoci qua, piccola sosta, manca un'ora e 45 all'arrivo a Lione In basso ci sgranchiamo un po' le gambe, rumba fa la pipì Ci riposiamo 5 minuti e si ricomincia il viaggio In giornamento siamo arrivati a Lione, aspettate che vi giro davanti Lione, siamo in centro, 300 metri arriviamo all'agenzia per andare a ritirare le nostre chiavi Quindi appena avremo le chiavi le farò vedere Però siamo arrivati a Lione, ce l'abbiamo fatta No, così mi rimane Tac, c'è l'entrata Le seggere Qua d'aria Come vi ho detto, è l'entrata E qua c'è il ripostiglio Uno Secondo ripostiglio Due 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 Ok, cucina C'è la cucina La patrice Sì I lavori C'è la cucina Qui c'è il gabinetto Qui c'è il gabinetto Qui c'è il bagno Ok E camera Abbiamo chitato tutte le cose che erano in casa Perché era una casa immobiliata Ma avendo nelle nostre cose Abbiamo impelicolato tutte le cose Le abbiamo discese giù in cava E quindi abbiamo passato la giornata, la serata a fare quello praticamente Quindi poi non ho più filmato niente E ora stiamo tornando verso casa Stiamo andando all'agenzia a lasciare le chiavi Perché c'è un lavoretto da fare dentro casa Io lascio le chiavi, tanto noi questo mese non saremo qua E poi si parte verso Parigi È stata una bellissima giornata E ora vi faccio vedere L'altro giorno non ho chiuso il video Ora sono qua a lavoro Stavo montando il video dell'altro giorno E non ho chiuso il video Come sempre, come tutte le volte Mi dimentico poi di finire la giornata Comunque niente, il trasloco è andato tutto bene Il ritorno anche Quindi ora questo mese resteremo ancora a Parigi Torneremo a Lione definitivamente a fine giugno E anche in quell'occasione là magari vi partiremo con noi Però niente, mi faceva piacere condividere qualche piccolo aggiornamento con voi Visto che era da tanto comunque sai che non pubblicavo più niente Spero che il video vi sia piaciuto Che vi abbia tenuto compagnia Ricordatevi di iscrivermi E ci mettiamo giorno presto Appunto il mese prossimo Non appena ci trasferiremo direttamente a Lione Avremo due settimane di fere Quindi avremo il tempo veramente di girare per Lione Vederle insieme E comunque farvi vedere bene come diventerà l'appartamento Una volta che avremo sistemato tutte le nostre coltine A presto!